Hai sentito Carlo Freccero che parlava, insomma, stava dalla parte dei No Green Pass ma dentro quei No Green Pass ci sono anche tantissimi Novax, moltissimi Novax e tu sui Novax, abballando con le stelle, ti sei incornata con Mietta? Cioè come è successo? Non mi sono incornata, in realtà è una... Hai avuto uno scambio durissimo In realtà è una questione molto seria che nasce in un contesto di intrattenimento ma è una questione molto seria perché è comunque un contesto lavorativo e se una persona a un certo punto si prende il Covid, come è successo a Mietta in un contesto in cui io penso e ritengo siamo tutti vaccinati non prende il Covid del suo ballerino non prende il Covid della persona che divide la stanza con lei la prende solo lei io mi domando, tra l'altro condividendo quegli spazi con persone ultraottantenni persone che hanno anche delle malattie serie mi domando, ma Mietta sei vaccinata? Me lo sono domandata e mi è venuto in quel momento di chiederlo anche a lei ma come si fa in tantissime trasmissioni io ti ho visto chiedere ogni tanto ai tuoi ospiti lei è vaccinato anche credo una settimana fa non mi sembrava di fare nulla di male tanto più che c'è di mezzo anche la mia salute perché è anche il mio luogo di lavoro quello e lei ha detto di no e lei non ha risposto come spesso succede diciamo in questi casi si è appellata giustamente, legittimamente però poi ha fatto sapere successivamente che io trovo che sia una fotografia molto interessante che c'era un problema di tolleranze dice che ha problemi medici non meglio specificati per cui non può vaccinarsi però è una fotografia molto interessante quella che è successo perché lei che non è vaccinata ha preso il Covid il ballerino che balla con lei non l'ha preso la persona che divide la stanza con lei non l'ha preso cioè è rimasto circoscritto alla sua persona quindi mi sembrava sbagliato far passare il concetto che tutto sommato una persona vaccinata avesse preso il Covid in un contesto in cui tutti siamo vaccinati tutto qua mi sembrava importante ribadirlo mi sembrava importante che lei lo dicesse e invece un anno fa si denunciavano mi sono beccata anche che denunciano da parte del Codacons per violazione privacy vabbè le solite sparate del Codacons che cerca diciamo così luce per esistere però se ci pensi un anno fa cioè si denunciavano le RSA i politici eccetera oggi si denuncia un privato cittadino che si preoccupa della sua salute che domanda se ti sei vaccinato tu non sei disposta a lavorare in un posto dove c'è una persona no-vax allora intanto io non credo che Mietta sia no-vax credo che non si sia vaccinato io non sono disposta a lavorare con continuità in un luogo di lavoro e voglio dire con una vicinanza stretta in una situazione di vicinanza stretta con una persona che non si vaccina cioè non voglio parrucchieri, truccatori persone sedute accanto a me non vaccinate e lo chiedo lo chiedo talvolta mi è successo di chiederlo se c'è continuità nella mia attività lavorativa quando sali sul taxi lo chiedi? no sul taxi hai ragione non l'ho mai chiesto e ti conviene non chiederlo? perché tu rimani a piedi magari perché ce ne sono parecchi ma ce ne sono svariati però sono situazioni non di continuità cioè non sono persone che incontro due giorni sul posto di lavoro ma non è solo una questione di salute cioè per me è diventata una scelta cioè io voglio che le persone che in questo momento lavorano con me abbiano la mia stessa sensibilità su alcuni temi cioè io in questo momento voglio sentirmi ci diventa una pregiudiziale ideologica no non è una pregiudiziale io credo che sia importante non è un pregiudizio no una pregiudiziale nel senso devi condividere questi miei principi per lavorare con me in questo senso perché sono cose importanti perché la salute degli altri il fatto che qualcuno tenga la salute degli altri oltre che quella sua una posizione come sempre le tue molto radicale e decisa beh io ho bisogno di sentirmi da quella parte del mondo con le persone giuste in questo momento mi sembrano queste importanti fra poco ci occupiamo